Ciao, mi chiamo Luca, sono qua per dare la mia opinione sul corso. Mi è stato chiesto se avevo piacere di fare questo video per dare il mio parere, dire quello che pensavo. Ovviamente a me ha fatto molto piacere, quindi sono qui per dire la mia. Innanzitutto ringrazio Andrea, gli ho già fatto i complimenti su Facebook, anche direttamente sul corso. Sul video corso, perché comunque ritengo che ha fatto un buon prodotto per tutti coloro che lo acquistano. Quello che posso dire è che sicuramente è ricco di molti contenuti. Io diciamo che la mia valutazione posso farla anche grazie ai miei dieci anni di esperienza di lavoro in pasticceria, che quindi posso dire realmente, sicuramente posso vedere qualcosina in più rispetto a una persona che non ha esperienza. Quello che posso dire è che sicuramente tutte le ricette, tutti i metodi, tutte le malizie, tutto quello che ha trasmesso in questo corso sono sicuramente tanti anni di esperienza. Non è un anno di lavoro, non è qualche ricetta trovata qua e là, ma sono sicuramente anni e anni di esperienza. Perché anch'io dopo dieci anni penso di aver acquisito un buon metodo, dei buoni prodotti, ma comunque sempre a frutto di tutti questi dieci anni. Quindi il valore che noi paghiamo nel corso non ha nulla a che vedere con il vero valore di tutto il pacchetto. Quindi io confermo che ricette, metodo e anche il modo in cui lo spiega, perché sono convinto che lui insegna delle ricette anche complesse, anche difficili. Perché comunque già una sfogliatura di un croissant, per quanto per un pasticcere può essere la normalità, in realtà uno non è facile e poi ci sono tanti passaggi, tante cose che uno può fare per rendere il prodotto perfetto o ci sono tanti pasticceri che comunque lo fanno tralasciando tanti particolari e il prodotto non è perfetto. Quindi penso che come l'ha fatto vedere, l'ha fatto vedere con una buona tecnica e anche in maniera molto semplice, in modo che tutti lo possano capire. Quindi io vi faccio vedere, sono qui all'interno del laboratorio, sono le 5 del mattino, sto già lavorando e non lo faccio vedere per far vedere che sono un pasticcere, ma sicuramente se un pasticcere acquista questo pacchetto, questo videocorso è perché sicuramente l'ha trovato interessante e poi ovviamente la potrei aver trovato sorprese, magari durante, una volta acquistato magari entrava dentro il corso e non mi sarebbe piaciuto, in realtà lo sto seguendo ancora adesso e personalmente mi piace molto, lo trovo molto interessante. Ciao a tutti!